Maestro Alè, ritorno a Corato per questa importante competizione internazionale, è una tappa che ormai si consolida da 17 anni, qual è la sua impressione su questo concorso? Un magnifico concorso, è un trampolino di lancio per i giovani e sicuramente i migliori poi riescono a avere una carriera internazionale. L'esempio più meraviglioso nella storia del concorso è quello di Gloria Campaner che ha vinto qui, gira il mondo, pianista acclamata dappertutto. E quindi chi nasce qui ha sicuramente poi l'avvenire perfetto. La musica classica coinvolge sempre più giovani, anche se purtroppo non è la musica di grido. Qual è il suo commento a proposito? Che bisogna abituare i bambini piccolissimi ad ascoltare la musica classica. Io conosco un bambino di tre anni che ascolta le variazioni Goldberg di Bach e cresce bene, e poi cambia il cd e metter male la prima sinfonia. Naturalmente cresce in un ambiente musicale, ma l'ambiente conta molto e i genitori possono fare moltissimo per i bambini. Nel corso della sua carriera ha avuto modo di essere comunque insegnante di tanti studenti che comunque si sono avvicendati nel corso degli anni. Come è cambiato il modo di insegnare? Io direi che è molto importante il confronto che c'è oggi fra le varie di scuole. Cioè queste conoscenze che hanno tutti ormai, pongiamo della scuola russa, di scuola americana, di scuola tedesca. Poi in questi ultimi anni c'è stata un'affluenza asiatica impressionante, molti coreani, cinesi, giapponesi come sempre. Tutto questo fa in modo che ci sia l'avvicinamento alla musica classica. Anche in Italia succede questo? Ma dove ci sono attenzioni sì, poi ci sono i disattenti, quelli andrebbero puniti. Credo che Dante saprebbe castigarli bene. Cosa possono fare le istituzioni italiane per incentivare all'ascolto e allo studio della musica? Prima di tutto dovrebbero essere il governo e chi elargisce i fondi a fare in modo che venga sostenuta la cultura e la musica. Perché sono indispensabili i fondi, senza non si può fare nulla. Io credo che ci sia una scarsa attenzione dei politici nei confronti della musica. Grazie.